Siamo qui a Monza, allo Speed Day di Elaborare, con il Punto Racing Club abbiamo portato 60 macchine, 20 hanno potuto girare in pista per sperimentare la possibilità di girare in un circuito. Grazie a Fiat che ci ha concesso delle Punto Evo nuove fiammanti, quindi abbiamo potuto sperimentare e portare all'invento le nostre autovetture a partire dalle Punto Prima Serie fino alle ultimissime Punto Evo in tutta sicurezza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS